Building a Puglia, costruendo l'identità della Puglia che scrive, edita e parla di sé. È la rassegna letteraria dedicata agli scrittori pugliesi che attraverso i loro libri pubblicati da case editrici locali contribuiscono a ricostruire l'identità della regione dal punto di vista storico, antropologico, sociale, economico, religioso o scientifico. Dieci gli incontri in programma fino a giugno organizzati nella Sala Guaccero del Consiglio regionale in via Capruzzi a Bari. L'evento, giunto quest'anno alla nona edizione, è aperto al pubblico e oppure si può seguire sul canale YouTube di Teca del Mediterraneo, la biblioteca del Consiglio regionale che ha promosso l'iniziativa. Nel gruppo di lettura 2012 parteciperanno anche gli studenti dell'Istituto Vivante Pitagora di Bari e dell'Istituto Tecnico Commerciale Tannoia di Corato. Al di là di quelle che sono la varietà delle tematiche che questa rassegna tratterà, stiamo tentando anche di allargarla il più possibile. Cercheremo di portarla anche nelle librerie, comunque in luoghi dove tutta la cittadinanza potrà partecipare. Grazie. Grazie.